Beato Giordano da Pisa Giordano da Pisa, trapassato nel 1311, domenicano, cominciò a fare uso del volgare italiano invece del latino nei suoi sermoni. E' considerato uno dei padri della lingua italiana. Il suo culto fu approvato nel 1833. Commento. Molti iniziatori, molti dei quali completamente sconosciuti, appartengono alla storia secolare della Chiesa e la prova della grande forma coscienza della Chiesa.